salve a tutti e bentornati nel canale sai che web tv in un'altra puntata di sai che intanto buon tutto a tutti da io Pino da Donato e da Valeria e salutiamo anche i nostri collaboratori Sebastiano Arianna e Sara Donato che cos'è un sai che è un programma di video servizi informativi con interviste a professionisti o cultori hobbysti di utilità informazione popolare quindi se anche voi avete un sai che da raccontare contattateci per una pre intervista quindi ora passiamo subito al sai che di oggi Valeria di cosa si tratta è un sai che che parla di arte cultura e storia religiosa quindi proseguiamo con la terza parte dell'oasi del sacro cuore in santa maria dell'isola a conversano in provincia di Bari cosa sappiamo dei martiri francescani chi ha acquistata la chiesa dell'oasi da un privato cittadino e chi ha chi sta portando al completamento i lavori di restauro e di ristrutturazione lo racconta il professor Mario Giannuzzi di conversano con il direttore della santa maria dell'isola don leonardo mastronardi di castellana grotte ma prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e fatelo come dice Donato il campanellino per vedere i nostri nuovi video fra i primi e che dire ciao a tutti e sai che puoi interessare o coinvolgere anche te ciao a tutti siamo a conversano e in compagnia del professore Mario Giannuzzi per raccontarvi un gioiello storico e religioso l'oasi del sacro cuore di santa maria dell'isola proseguiamo nella scoperta di questa sorprendente testimonianza affidandoci al racconto di Mario grazie valeria saluto anche Donato e Pino che con le loro telecamere permettono la ripresa di questo luogo incantevole incantato meraviglioso ecco ci troviamo di fronte a una grande tela nella quale campeggiano dei frati francescani crocifissi assistiamo a scene di tortura tormenti crocifissioni di che si tratta il 5 febbraio del 1597 a Nagasaki in Giappone una comunità di francescani che si erano recati in Giappone per annunziare il Vangelo venne crocifissa tutti furono crocifissi si tratta dei martiri francescani di Nagasaki è una tela grandiosa in alto in alto ecco vediamo Gesù Cristo Redentore che accoglie i frati martiri al centro quasi in un grande semicerchio vediamo la gran quantità di francescani crocifissi verso il basso troviamo altri francescani che stanno per essere inchiodati o legati alle loro croci è rappresentata una vicenda storica realmente accaduta appunto siamo nel 1597 30 anni dopo il papa urbano ottavo dichiarò ufficialmente martiri i francescani trucidati a nagasaki dove si trova questa tela grandiosa nella chiesa di santa maria dell'isola perché nella chiesa di santa maria dell'isola perché questa chiesa che si iniziò a costruire nel 1462 per volontà del conte di conversano giulio antonio acquaviva venne affidata ai frati minori osservanti un ramo del francescanesimo tra i conti di conversano e la chiesa si instaurò una feconda collaborazione da che cosa ce ne accorgiamo se noi ci spostiamo in basso qui c'è una iscrizione che racconta proprio la crocifissione dei francescani al centro in basso osserviamo uno stemma questa è lo stemma dei conti di conversano acquaviva d'aragona notate che lo stemma è diviso in quattro parti il leone rampante rappresenta la famiglia acquaviva questi altri riquadri rappresentano gli aragona i conti di conversano ebbero il privilegio di chiamarsi acquaviva d'aragona e nel loro stemma viene confermata questa questo legame tra la famiglia acquaviva conti di conversano e la famiglia aragona re di napoli il quadro dunque è all'interno della chiesa di santa maria dell'isola fra poco vi racconteremo in breve la storia della realizzazione di questa chiesa il 1462 cominciarono i lavori per la costruzione della chiesa di santa maria dell'isola la chiesa per volontà del conte di conversano giulio antonio acquaviva d'aragona d'accordo anche col vescovo dell'epoca venne affidata ai frati minori osservanti la volontà del conte del vescovo la generosità dei cittadini di conversano tutto insieme contribuirono a realizzare la prima navata di questa chiesa quella dove noi ci troviamo in questo momento una navata caratterizzata da cupole due cupole caratteristiche e da altri due cupole non proprio emisferiche ma costolonate la chiesa poi circa 200 anni dopo nel 1618 venne ampliata con la realizzazione di una seconda navata una seconda navata che si differenziò dalla prima chi visita la chiesa di santa maria dell'isola facilmente nota la differenza tra la navata di destra e la navata di sinistra la navata di sinistra che state osservando in questo momento venne diciamo così consacrata da un altro conte di conversano o meglio dalla volontà di un altro conte di conversano giangirolamo secondo acquaviva d'aragona era il 1618 la storia della chiesa continuò nei secoli successivi ma si interruppe bruscamente nel 1866 cinque anni prima si era realizzata l'unificazione d'italia i re i savoia volerò impadronirsi di molte diciamo così ricchezze cioè chiese conventi istituti che appartenevano alla chiesa cattolica i frati che stavano in santa maria dell'isola andarono via la chiesa la chiesa e tutto il complesso conventuale divennero patrimonio del demanio statale non solo chiesa e convento furono messi in vendita e acquistate la chiesa e il convento da una famiglia privata di conversano che però non ha gestito il complesso conventuale come luogo sacro lo ha gestito per altre finalità nel convento sono state alloggiate famiglie così alle quali si dava un luogo come casa popolare nel convento arrivarono anche profughi del veneto e del friuli durante la prima guerra mondiale ma la finalità religiosa ma anche il patrimonio artistico e storico per la verità subirono un certo abbandono tanto che parecchie testimonianze artistiche presenti nella chiesa non ci sono più nel 1963 un sacerdote di conversano assistente generale dell'azione cattolica monsignor raffaele marinelli seguendo un desiderio del suo cuore acquistò dalla famiglia privata il complesso conventuale desiderando di realizzare una oasi di spiritualità il buon monsignor marinelli per anni si è impegnato a cercare fondi ma è giunto alla morte 1982 avendo realizzato ben poco dopo la sua morte la chiesa fu affidata a don leonardo mastronardi che ancora oggi ne è il rettore e noi fra poco ascoltiamo don leonardo mastronardi che ci parlerà di un io dico miracolo da essere chiesa e convento in uno stato di totale abbandono oggi sono invece in uno stato di totale o quasi splendore ci ha raggiunti don leonardo mastronardi attuale rettore della chiesa e del convento di santa maria dell'isola a don leonardo dobbiamo chiedere alcune così alcune spiegazioni perché nel 1982 quando monsignor marinelli fu chiamato al cielo don leonardo ricevette dal vescovo la nomina direttore caricandosi sulle spalle della responsabilità di trasformare un rudere complessivamente in un gioiello artistico veramente monsignor marinelli morendo aveva lasciato per disposizione testamentaria così il desiderio che si costituisse un consiglio di amministrazione affidato al compianto dottor nicola miccolis il consiglio di amministrazione si sentì quasi paralizzato incapace e il vescovo nominò don leonardo don leonardo ha compiuto il miracolo da solo o con l'aiuto del padre eterno ce lo facciamo raccontare dallo stesso don leonardo allora don leonardo facci sapere che cosa è successo da quando sei diventato rettore di questo complesso intanto non mi chiedete di fare altri miracoli ne ho fatto uno secondo il professor giannuzzi mario naturalmente è un'espressione un po scherzosa qui si è trattato solo di veramente un intervento providenziale perché ecco morto marinelli un po tutti rimanemmo in uno stato di indecisione perché non si sapeva vedendo lo stato di abbandono non solo della chiesa ma di tutta la struttura monastica di poter intervenire per poter poi ecco creare di nuovo una possibilità di accoglienza in questa struttura e il mi ricordo ecco devo dirvi una cosa che mi sta a cuore intanto monsignor marinelli che non mi aveva nominato nel testamento come esecutore di quel testamento perché si potesse portare a termine o almeno non portare a termine iniziare la ristrutturazione dell'oasi però mi aveva consegnato un bigliettino lo dico io il 30 gennaio 1980 monsignor marinelli aveva consegnato a don leonardo questo bigliettino ve lo leggo carissimo don leonardo fra poco sentirai che io non ci sarò più prega per me povero prete e prega per l'oasi che è nata dal cuore di cristo e intende glorificarlo e farlo con amore che l'oasi non venga snaturata e pensa per la gestione pratica con suore idonee o laici formati e non mercenari e una consegna consegna con affetto sacerdotale fraterno affezionatissimo don raffaere marinelli dunque dicevo che il vescovo allora conoscendo questa volontà di marinelli di associare la mia persona a quel gruppo che doveva portare innanzi il suo progetto ecco ci demmo da fare sono passati forse un paio d'anni in cui abbiamo cercato con riunioni interminabili di trovare una soluzione migliore e la trovammo quando decidemmo di affidare a tre architetti e ingegneri famosissimi di Bari professor giambattista de tommasi professor piero masini e il l'ingegner frangolo russo questi tre hanno impiegato non meno di un anno per stilare tutto il progetto di restauro del complesso per intero fu consegnata la sovrintendenza non è che ci fossero tante speranze perché ci fosse un'approvazione positiva subito comunque ecco la providenza di cui vi parlavo dopo forse un anno che la sovrintendenza approfondita studiato questo monumento lo chiamo io che era nel primo posto tra quelli meritevoli nella provincia di Bari di essere restaurato data l'importanza di questa struttura dopo due anni noi avevamo l'approvazione complita del progetto per cui ora si doveva partire però nel 1984 quando ancora era forse tutto in alto mare arriva la prima comunità religiosa le suore di Sant'Antonio Maria Claret che furono mi pare ospitate in una maniera come dobbiamo dire più da campeggio che da luogo di accoglienza non appena sapemmo della venuta di queste suore ci devono da fare davvero per allestire diciamo nella maniera più più urgente più improvvisata anche una parte della struttura che attualmente è proprio l'appartamento diciamo delle suore la loro clausura e lì arrivarono queste suore naturalmente avemmo molto coraggio allora perché con la presenza continua di chi potesse fare accoglienza noi eravamo in grado di poter andare innanzi e qui il grosso problema per ristrutturare questo convento non era questione siamo ancora prima del 2000 non era questione di milioni ma di miliardi io non non ho una precisa un resoconto preciso non ce l'ho però penso sempre riferente alle vecchie lire noi abbiamo consumato o speso tra i 5 e i 6 miliardi vecchie lire e quindi allora cominciamo a fare domande al al ministero dei beni culturali alla sovrintendenza alle belle arti alla provincia alla regione insomma ci demmo da fare e cominciarono a piovere i primi le prime approvazioni prima se le prime assegnazioni e così si cominciò la prima struttura che fu restaurata e la presi in proprio la sovrintendenza alle belle arti di bari tenuto conto della importanza che aveva questo mondo fu proprio la chiesa non ricorderò mai che furono assegnate 400 milioni vecchie lire e si riuscì a fare la chiesa quasi per intero come la si vede oggi ho detto quasi perché tante cose finirono i 400 milioni e poi si è dovuto naturalmente aspettare e io don leonardo voglio ricordarti che la grotta non è stata ancora restaurata va bene ma questo è qualcosa che sta a me molto a cuore il miracolo però si è realizzato tant'è vero che nei giardini dell'Ovasi nell'anno 2007 mi pare ai primi di giugno c'è stata la inaugurazione ufficiale del restauro ormai compiuto non solo della chiesa ma di tutta la struttura ci sono voluti una ventina di anni più o meno o meno più o più un po' più però ecco io con grande sorpresa pensavo di morire vedendo almeno la chiesa restaurata ho avuto la fortuna di vederlo un po' tutta la struttura non dimenticherò mai che proprio per l'inaugurazione avevo la fortuna di avere qua l'orchestra del maestro Marco Frisina di Roma che tenne un concerto meraviglioso la partecipazione di oltre mille persone nel nostro giardino naturalmente queste sono proprio le notizie strette strette una cosa solo vi volevo aggiungere ricordo che prima che cominciassimo il restauro venne il sovrintendente Mola Riccardo Mola era allora il sovrintendente di Bari e mi chiamò dice lei come si chiama Don Leonardo venga con me ci sedemmo in fondo alla chiesa e lui la guardava la guardava a un certo punto disse padre se esiste il paradiso questa è l'anticamera ma dico io non credo che vorrei andare in paradiso in queste condizioni perché allora la chiesa faceva paura parecchi pezzi dagli altari caduti a terra perché infraciditi eccetera cioè guardarla allora senza illuminazione eccetera non sembrava proprio ora che la chiesa è nel suo restauro quasi pieno l'anticamera l'anticamera del paradiso il paradiso deve essere veramente bello se questa è l'anticamera hai ancora molto da fare non stamattina per questa chiesa la grotta ma sono proprio ci posso dire una parola chiedo a un regista una zecca io quando dico a Don Leonardo Don Leonardo la grotta la dobbiamo restaurare va bene adesso grazie Don Leonardo adesso provvederemo a far conoscere ai nostri amici telespettatori tutta la chiesa nei suoi particolari sarà una bella carrellata storica e artistica e devozionale la chiesa dedicata a Santa Maria dell'Isola fu dunque affidata ai frati minori francescani e i frati minori francescani come era consuetudine nel quindicesimo secolo provvidero ad affrescare tutte le pareti della chiesa con racconti tratti dalla vita dei santi o dalla Bibbia eccetera la chiesa dunque intonacata e affrescata totalmente offriva una visione meravigliosa se dovessimo capitare a Galatina a visitare la chiesa di Santa Caterina ed Alessandria possiamo avere un'idea di come era anche la chiesa di Santa Maria dell'Isola per non sappiamo quali motivazioni o di carattere sanitario epidemie o di mode artistiche dopo il 1600 gli affreschi erano stati tutti ricoperti da calce e sulle pareti bianche di calce vennero realizzati altari di legno col passare dei secoli alcuni altari di legno sono crollati la chiesa viveva in uno stato di abbandono fu come abbiamo già raccontato recuperata da Monsignor Marinelli e restaurata per il grande impegno di Don Leonardo Mastronardi e allora che cosa accadde che dove l'altare in legno non c'è più sono venuti alla luce gli affreschi antichi qui potete osservare questo articolato affresco dedicato a San Bernardino da Siena lo vediamo qui Francescano ai lati di San Bernardino due figure di Santi probabilmente San Nicola e San Gregorio in alto una bella annunciazione in un ambiente architettonico si inseriscono le figure di Maria che riceve l'annuncio dell'angelo che porta l'annuncio caratteristico poi di tutto l'insieme di questo affresco è ciò che possiamo vedere sul lato sinistro e anche sul lato destro in sei riquadri uno due tre quattro cinque sei sono raccontati con la tecnica dell'affresco miracoli compiuti da San Bernardino da Siena qui l'altare non c'è più ma se ci spostiamo ci spostiamo per ammirare l'altare l'igneo dedicato a San Francesco da Sisi San Francesco lo vediamo al centro dell'altare in una bella nicchia con il teschio che ci ricorda come Francesco chiamava la morte la chiamava sorella morte e una croce nel suo braccio destro se guardiamo l'altare nel suo insieme noi notiamo una bella grande costruzione linea nella quale però mancano alcuni pezzi pregiati lo diciamo perché chissà che qualcuno vedendo questo lavoro che è donato Pino con la mia modesta collaborazione stanno svolgendo si intenerisce e restituisce ciò che non c'è più perché in alto dove vediamo queste tre nicchie c'erano delle statue lignee dorate e ai due lati di San Francesco dove vediamo questo pannello come devo dire nudo da un lato e anche dall'altro qui c'erano stemmi dorati di diverse famiglie non ci sono più chissà che possiamo recuperarlo possiamo anche notare come al lato sinistro dell'altare vediamo una madonna con bambino a conferma perché quando non c'era l'altare tutta la chiesa era affrescata poi gli affreschi sono stati coperti dalla calce probabilmente per disinfettare tutto l'ambiente in un periodo di epidemie sull'intonaco nuovo sono stati fatti gli altari e oggi riusciamo a vedere sia gli altari di legno che gli affreschi osserviamo la parete destra della chiesa sotto la quale c'è l'accesso per scendere nella grotta dell'isola gli osserviamo questa parete per vedere ancora una volta una parte degli affreschi che prima rivestivano tutta la chiesa sono affreschi recuperati con i restauri di cui ci ha parlato don leonardo mastronardi per cui alcuni sono quasi completi come questa madonna in trono che ha sulle sue ginocchia il bambino che accarezza la sfera del mondo probabilmente qui vediamo anche san cristofaro e qui soprattutto vediamo o meglio con un po' di sforzo riusciamo a vedere una bellissima sintesi della trinità guardate un po' questo Cristo crocifisso al quale mancano però la testa e il braccio destro che sta fra le ginocchia dell'eterno padre una sintesi del mistero trinitario ci troviamo ora nella prima campata della navata di sinistra noi vediamo qui una statua è la statua di san pasquale bailon santo francescano a san pasquale bailon era dedicato un grande altare ligneo che purtroppo è andato pressoché distrutto solo alcune parti sono state recuperate e poste in un ambiente di cui parleremo nella puntata successiva ma qui possiamo vedere ancora una volta come tutte le pareti della chiesa prima della costruzione degli altari di legno erano affrescate ecco guardate qui si può facilmente capire che troviamo la figura di san sebastiano al lato destro vediamo la figura invece di sant'antonio abate lo possiamo capire dal dal maialino dall'inmale che sta qui è bellissimo anche qui in alto quasi da contrapunto alla navata di destra ancora una annunciazione con l'angelo che annuncia e con Maria che riceve l'annuncio ma se alziamo lo sguardo verso l'alto vediamo come tutta la cupola costolonata è ricca di affreschi purtroppo in gran parte rovinati e faticosamente recuperati nei restauri tra il 1884 e il 2004 2005 nella seconda campata della navata di sinistra troviamo l'altare dedicato lo capiamo tutti facilmente a Sant'Antonio Sant'Antonio da Padova questo altare è caratteristico perché è stato realizzato per una parte in pietra lo vediamo questa è tutta pietra come l'annicchia dove è inserita la statua del santo ai lati di questa diciamo questa realizzazione architettonica in pietra troviamo la realizzazione in legno ma da uno sguardo complessivo possiamo formarci un'idea di come la chiesa si era diciamo così rovinata soprattutto dal 1868 in poi anche a questo altare mancano parecchie cose in questi riquadri certamente c'erano dei lavori artistici delle rappresentazioni anche in alto in alto c'era qualcosa adesso non c'è più il lavoro di restauro ha salvato tutto quello che poteva essere salvato la devozione dei monaci francescani verso la madonna era certamente molto sentita l'abbiamo notata nell'annunciazione presente nel primo affresco della navata di destra ma l'abbiamo notata anche nel primo affresco della navata di sinistra e la notiamo soprattutto in questo altare dove ancora una volta si ripete il tema della annunciazione una tela meravigliosa mentre negli altri altari prevalevano le statue una tela meravigliosa realizzata certamente o dal grande pittore Paolo Finoglio o da allievi della sua scuola certo che l'annunciazione è di con un linguaggio un po' tecnico di stampo finogliesco lo notiamo dai panneggi dell'angelo per esempio questa capacità di rappresentare i tessuti che vediamo sia nell'angelo sia anche nella madonna è una caratteristica dello stile pittorico di Paolo Finoglio ma anche l'altare l'igneo nel suo complesso è elegantemente realizzato certamente c'erano a conversano famiglie che economicamente sostenevano i francescani nella realizzazione di queste magnifiche opere d'arte il legame tra i conversanesi e la chiesa di santa maria dell'isola si esprime soprattutto nella devozione verso il crocifisso nero così lo indichiamo molti si chiedono perché nero questo crocifisso è un bel lavoro che viene dal salento dai cartapestai ma è nero perché una risposta possibile può essere questa perché nero esprime il lutto della morte perché nero esprime anche il racconto evangelico che ci dice quando Gesù Cristo morì si fece buio su tutta la terra certo che nero esprime anche la sofferenza esprime il dolore tutti i conversanesi ma dico tutti credenti non credenti praticanti non praticanti nella sera del giovedì santo e per tutta la notte fra il giovedì e il venerdì vengono qui all'isola per baciare il piede del crocifisso nero questa tradizione devozionale si conserva da secoli e viene profondamente sentita da tutti bambini giovani adulti anziani la mattina del venerdì santo il crocifisso è portato in processione dalla chiesa dell'isola in paese la processione parte alle 3 del mattino giunge in paese verso le 6 del mattino percorre le strade e poi rientra alla chiesa dell'isola ed ecco la parte di questa storia è terminata ringraziamo mario giannuzzi don leonardo mastronardi e la comunità delle suore alla prossima sai che può interessare o coinvolgere anche te a